Siamo in un periodo storico in cui la cultura generale è piuttosto bassa. Il flusso delle informazioni raggiunge il parossismo e anche la persona più attenta corre il rischio di confondersi e fare delle magre figure. Una di queste è la confusione fra astronomia e astrologia. Probabilmente la cosa peggiore che possa capitare a un astronomo è di essere preso per astrologo. Ah, sei un astronomo, cosa mi dici allora del mio segno e cosa pensi del trigono sole urano nel mio cielo di nascita? Se siete mai caduti in questa gaff avrete sicuramente notato sul volto del malcapitato astronomo una smorfia di quelle che non si dimenticano proprio mai per tutta la vita. Quando invece avviene il contrario, la cosa può perire anche l'usinghiera. Ah, tu sei un astrologo e cosa mi dici dei nuovi esopianeti appena scoperti dalla NASA? E cosa pensi? C'hai vita su Marte? E quando è che lo colonizzeremo? Entrambi i dialoghi fanno sorridere le persone più informate, quelle che sanno benissimo che ciascuno studioso ha un preciso ambito di competenze. Semplificando, l'astronomo oggi si occupa di contare, catalogare, misurare l'universo e codificarne le leggi che ne governano i moti, le temperature, le reazioni chimiche e le componenti fisiche. Ma ritiene che elementi così immateriali e concetti così poco scientifici come i segni zodiacali, le case e i trigoni non siano di alcun interesse. Questo perché gli astronomi non ammettono che possa esistere una qualsivoglia influenza o correlazione fra eventi celesti ed eventi umani. È invece proprio l'esistenza di tale correlazione, sulla cui natura poi gli astrologi stessi non sono d'accordo, è invece proprio questa correlazione che sta alla base dell'astrologia. Direi anzi che proprio questo è l'unico, fondamentale e irrinunciabile dogma in cui tutti gli astrologi sono tenuti a, tra virgolette, credere, se proprio vogliamo usare questo verbo che, secondo me, è assolutamente fuorviante. Infatti non si chiede a nessuno di credere all'astrologia. L'astrologia la si studia, la si impara, la si sperimenta, la si verifica e se si vede che funziona si continua a studiare e a utilizzarla. Da parte loro gli astrologi non sono tenuti a occuparsi di esopianeti, di forze gravitazionali, di galassie e di teorie sulla nascita e sull'espansione del nostro universo, ma è sbagliato pensare che non vi siano notevoli punti di contatto fra astronomia e astrologia. E comunque, a proposito di esoplaneti, io ne parlo nel mio libro intitolato Astrologia extraterrestre. Ma tornando ai punti di contatto fra astronomia e astrologia, gli astrologi utilizzano una particolare branca della scienza che viene comunemente chiamata astronomia sferica, oppure astronomia della sfera locale o anche geografia astronomica e con quest'ultima denominazione che a miei tempi io per esempio l'ho studiata al liceo, geografia astronomica. Di cosa si occupa la geografia astronomica o astronomia sferica? Studia i vari sistemi di coordinate che grazie anche a rigorosissimi calcoli trigonometrici servono per determinare la posizione e i movimenti della volta celeste e degli oggetti che su di essa sembrano essere ancorati e sono le stelle fisse o sembrano muoversi in maniera più o meno regolare e sono i pianeti e i luminari. Ci fu un lungo periodo nella storia delle arti e delle scienze umane, categorie che qui consideriamo cumulativamente come discipline che hanno fortemente contribuito all'evoluzione e allo sviluppo della scienza, dicevo ci fu un lungo periodo in cui il confine fra astronomia e astrologia non era così netto. Si ritiene comunemente che a nascere per prima fosse l'astrologia, frutto magari di sagaci pastori caldei che in tempi remotissimi avrebbero notato una correlazione fra il carattere o talune caratteristiche degli ovini nati in un certo periodo dell'anno e le configurazioni astrali osservabili nel cielo in quello stesso periodo dell'anno. Solo in seguito l'astrologia si sarebbe scrollata di dosso questo fastidioso manto di miti e di ozie e che avrebbero impedito all'essere umano di cogliere la vera realtà materiale e scientifica delle cose. Secondo questa visione, che considero piuttosto ingenua e semplicistica, l'astronomia nascerebbe dalla più vetusta e ormai superata astrologia e quest'ultima sarebbe dunque l'umile ancella dell'astronomia. Solo l'astronomia aspetta il crisma della scientificità. Ah, qualche grande astronomo del passato si occupava di astrologia? Ma sì, lo faceva sicuramente solo per guadagnarsi un po' di facile denaro sfruttando una superstizione popolare nella quale lui stesso non credeva affatto. Questo è quello che spesso ci viene raccontato. Ebbene, se andiamo ad approfondire, le cose non stanno esattamente in questi termini. Nessuno sa con certezza quando nacque nell'essere umano l'abitudine di osservare regolarmente il cielo. A mio modesto avviso credo che osservare il cielo e fissarne e dunque anche prevederne i cicli fosse questione di vita o di morte, sia per le primitive comunità nomadi di cacciatori che per i primi insediamenti umani dediti all'agricoltura, alla pastorizia, all'allevamento. Il problema era come sapere qual è la stagione più propizia alla caccia? Come sapere quando è più opportuno arare, seminare, irrigare, potare, raccogliere, conservare? Come ricordarsi e prevenire, anno dopo anno, il mutare delle stagioni, le giornate che si accorciano e poi si allungano, le stagioni delle piogge, delle siccità, dei venti e i periodi di fregola, di gestazione, di riproduzione degli animali. Per tutto questo si rese necessario, cioè per la nostra stessa sopravvivenza come specie, si rese necessario creare e fissare nel tempo un sistema affidabile di misurazione, appunto, del tempo. Un calendario, in altri termini. Un calendario che permettesse di insegnare e tramandare il momento più propizio per svolgere attività che vanno fatte sempre in un preciso periodo dell'anno, appena l'insuccesso. Per dire, inutile andare a pescare l'ostorione in un momento in cui l'ostorione non c'è. E non possiamo permetterci di andare tutti i giorni al torrente a vedere se l'ostorione c'è o non c'è. Dobbiamo osservare e prendere nota del periodo dell'anno in cui l'ostorione c'è e quindi possiamo andare a pescarlo a, diciamo così, a colpo sicuro. Fu dunque osservando il cielo e i suoi movimenti che l'essere umano imparò a cacciare, a coltivare la terra, allevare gli animali e a svolgere tante altre attività particolarmente complesse, come per esempio la panificazione, la vinificazione, in base al momento della giornata, all'alternarsi delle stagioni, al susseguirsi delle fasi luni solari. Poi certamente c'era l'astrologia che riteneva, come avviene ancora oggi, che se un sovrano si insediava con una particolare configurazione astrale, il suo regno avrebbe avuto una certa durata ed evoluzione nel tempo e che se una persona nasceva mentre sorgeva una determinata porzione del cielo, una di quelle dodici porzioni dell'eclittica che oggi chiamiamo segno zodiacale, che è cosa ben diversa dalla costellazione zodiacale. Quindi se nasceva con un certo ascendente, un certo segno ascendente, questa persona avrebbe avuto un certo carattere e un certo destino. Pochi sanno però, e molti si rifiuteranno di ammetterlo, che gli scienziati dell'età d'oro della moderna astronomia, il 500-600, grossomodo da Copernico a Galileo, sentirono la necessità di osservare il cielo e di fissare i movimenti planetari con crescente precisione e anche con strumenti ottici sempre più sofisticati, proprio per venire incontro alle esigenze dell'astrologia che utilizzava ormai effemeridi obsolete e palesemente imprecise. Sì, sì, avete capito bene. Sicuramente molti dei grandi astronomi dell'epoca avevano proprio questa priorità in mente, efemeridi più precise uguale previsioni più accurate. In particolare Tico Brahe, di cui Keplero raccolse i dati, o qualcuno dice che se ne appropriò con discrezione, comunque Keplero raccolse i dati di Tico Brahe accumulati proprio con quell'obiettivo dichiarato. Fu dunque la necessità di compilare effemeridi più affidabili che spinse Keplero a formulare le sue leggi che regolano il movimento orbitale di tutti i corpi celesti. Quest'ultima storia, che in questo video accennerò soltanto per sommi capi, è avvincente. Secondo me riflette molto bene la preponderanza del pensiero astrologico e simbolico su quello astronomico e razionale in quell'epoca entusiasmante e feconda dello studio del cielo. All'epoca tutti, astronomi o astrologi che dir si voglia, ritenevano che i corpi celesti si muovessero tracciando dei cerchi perfetti nello spazio. Si era in una epoca di transizione dalla visione tolemaica geocentrica a quella copernicana, ma comunque, da entrambi i punti di vista, si riteneva che le orbite planetarie fossero perfettamente circolari. Perché? Semplicemente perché il cerchio veniva considerato una figura geometrica perfetta e si riteneva che siccome tutto ciò che sta in alto è più vicino al mondo divino o spirituale, è più vicino alla perfezione, per forza di cose dovesse anche essere perfetto. Però, ipotizzare che i pianeti si muovessero su orbite perfettamente circolari non spiegava come mai di tanto in tanto alcuni di essi sembrano rallentare, fermarsi e poi retrocedere nel loro cammino apparente sulla volta celeste e poi ancora sostare per poi riprendere il loro moto diretto. A lungo si ritenne che a muoversi secondo un cerchio perfetto non fossero i pianeti, ma un punto della loro orbita che funge da centro ha un movimento circolare minore detto epiciclo. Questo doppio movimento circolare spiegava bene i periodi di apparente moto retrogrado dei pianeti, ma la teoria degli epicicli non permetteva di calcolare e prevedere con sufficiente accuratezza tutti i moti planetari. Le efemeridi di quegli anni risultavano dunque ancora troppo imprecise e inadatte a un uso sia astronomico che astrologico. In particolare, Marte era il pianeta che più di tutti gli altri mostrava un'orbita irregolare che non si riusciva a spiegare e prevedere perfettamente con la teoria degli epicicli. In un momento topico del quale avrà poi modo di pentirsi amaramente, un bel dì, Keplero, che era un ottimo matematico, a differenza di molti altri osservatori del cielo di quell'epoca, Keplero si vantò un giorno di essere in grado di affinare i calcoli e di risolvere una volta per tutte la questione dell'orbita di Marte. Ma, dico, se ne pentì amaramente perché da quel giorno lui fu letteralmente ossessionato da Marte, al punto da non dormirci più di notte e da ingaggiare con il pianeta e con ciò che esso rappresenta, quasi con il Dio stesso della guerra, ingaggiare una epica battaglia personale che molto si avvicina alla moderna idea astro-junghiana di esorcizzazione del simbolo. Alla fine, da genio innovatore e gigante del pensiero qual era, Keplero risolse e vinse la sua personale scommessa o battaglia con Marte uscendo dal paradigma, pensando fuori dagli schemi, ipotizzando cioè che forse Marte e anche gli altri corpi celesti, chissà, si muovessero su orbite non circolari ma bensì ellittiche. E così fu che grazie a un astronomo, Keplero, le successive generazioni di astrologi poterono contare su efemeridi sempre più precise e affidabili. O che, rovesciando i termini della questione, grazie a un problema astrologico, la necessità di avere efemeridi più precise, le successive generazioni di astronomi poterono contare su leggi matematiche che di fatto spalancarono le porte alla comprensione delle leggi fisiche che regolano l'intero universo. Dunque, la prossima volta che uno scientista vi racconta la storiella dei poveri astronomi cinquecenteschi che erano costretti a fare oroscopi probabilmente di nascosto vergognandosene perfino solo per sottrarsi ai morsi della fame, ricordate la storia di Keplero ossessionato dal dio della guerra con il quale ingaggiò una grandiosa guerra personale spinto dalla pressante richiesta a furor di popolo si direbbe oggi di efemeridi astrologiche più precise. Questo, ovviamente, non significa che l'astronomia sia più o meno importante dell'astrologia o viceversa. Oggi le due discipline e i rispettivi studiosi si sono specializzati ciascuno su un preciso ambito di studi e di competenze. Peccato, perché oggi come allora una maggiore collaborazione, un migliore scambio di informazioni e di idee o perlomeno una pacifica convivenza fra le due discipline potrebbero portare l'essere umano a un nuovo epocale salto di conoscenza. Le premesse ci sono tutte. Se questo video vi è piaciuto commentatelo, diffondetelo, condividetelo, mettete un like, iscrivetevi al mio canale e se vi va offritemi un caffè. Ciao! Ciao!